C'è il via libera della soprintendenza al progetto messo a punto dal Comune per la riqualificazione del manto stradale alla riviera di Chiaia. I San Pietrini, spesso causa di buche pericolose per automobilisti e motociclisti, saranno sostituiti con l'asfalto, un materiale ultramoderno, drenante e fonoassorbente che avrà costi inferiori ed in grado di assicurare maggior sicurezza e resistenza nel tempo. I lavori al via nei prossimi mesi interesseranno tutta la riviera da Piazza Vittoria a Piazza della Repubblica e comprendono anche il rifacimento dei marciapiedi con pietra lavica etnea. Vengono confermate le scelte fatte dal Comune nel lontano 2015. Noi già presentiamo all'epoca in delibero un preliminare che prevedeva dentro l'asfalto. Da allora è stato fatto un accurato mentre studio storico e iconografico sono stati anche prelevati di campioni di materiale. Quindi alla fine la soprintendenza si è convinta che la scelta iniziale fatta dall'amministrazione, da questo assessorato e dai servizi era corrente cioè era giustificata anche dal punto storico e l'ha confermato. Quindi adesso rifaremo tutta quanta la riviera di Chiaia da Piazza Vittoria a Piazza della Repubblica e rifaremo il lato interno dei marciapiedi quindi il lato pubblicato dei marciapiedi in pietra etnea con bordo invece in pietra vesuviana. I lavori dovranno iniziare, anzi inizieranno prima dell'estate tra maggio, praticamente giugno e dovrebbero completarsi entro l'anno. Nel frattempo stiamo anche portando avanti i lavori per la sistemazione superficiale della stazione metropolitana sempre a Piazza San Pasquale. Quindi mi auguro che entro l'anno tutta quest'asse viario che ha subito questa parte della città così importante anche da un punto di vista storico che ha subito in passato dei danni o delle difficoltà, delle sofferenze lunghe, entro l'anno possiamo rimettere a posto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.